La gassenterologia è una delle discipline oggi più moderne e anche più diffuse per le patologie che ne conseguono. Una delle patologie più frequenti nel mondo moderno è sicuramente la patologia da reflusso gassosofageo che spesso si presenta con dei sintomi del tutto atipici e che portano il paziente a volte a contattare altri specialisti perché il reflusso gassosofageo può interessare altri apparati come l'apparato cardiaco, il respiratorio o l'apparato otorino-laringoiatrico. La patologia da reflusso spesso è collegata alla presenza di un'ernia iatale dello stomaco ma questo non sempre è vero perché può essere anche causata da una incontinenza del cardias senza ernia iatale. Può essere più o meno correlata ad una gastrite più o meno importante, più o meno grave ma può essere anche soltanto e banalmente correlata ad una ipersecrezione gastrica. Questo impone naturalmente uno studio dettagliato dello stomaco per riuscire a capire qual è la correlazione nella patologia da reflusso. Il reflusso gassosofageo è molto importante curarlo perché può a lungo termine portare ad una infiammazione cronica dell'esofago e quindi anche esporre al rischio di una patologia neoplastica dell'esofago. Ci sono poi alcune situazioni che sono più a rischio in questo senso che sono l'esofago di Barrett che è una particolare condizione di metaplasia gastrica a livello del cardias, dell'esofago terminale che va sorvegliata con particolare attenzione sia endoscopicamente con una gastroscopia ma anche istologicamente con delle biopsie durante l'esame endoscopico. La patologia da reflusso gassosofageo è molto diffusa e contrariamente al passato spesso ne sono affetti anche i giovani. Noi oggi vediamo persone molto più giovani di un tempo ammalarsi di reflusso gassosofageo. Molto probabilmente questo è dovuto ad alterazioni dell'alimentazione, all'uso di prodotti alcolici, spesso anche a un'alimentazione sbagliata e a un sovrappeso che spesso è presente nelle persone che soffrono di patologia da reflusso gassosofageo. Le cure sono attualmente prevalentemente farmacologiche di questa patologia, soltanto in alcuni rarissimi casi si può risolvere il problema con una chirurgia, una chirurgia o tradizionale o endoscopica. Si è provato nel tempo anche con delle cure endoscopiche che però non sono andate poi in porto, come per esempio l'iniezione di acido ialuronico a livello del Cardias, che però non hanno dato buoni risultati e quindi si sono completamente abbandonati. Ovviamente la chirurgia è limitata soltanto ad alcune condizioni particolari che vengono studiate e quindi vengono poi mandate al chirurgo con la consapevolezza di averne un buon risultato. L'ernia iatale se è piccola non deve essere mai toccata chirurgicamente, mentre invece la chirurgia è un'ottima soluzione per le erne iatale molto voluminose che oltre a dare una patologia da reflusso gastro-risofageo possono dare anche dei disturbi di origine meccanica, di ordine meccanico. In questo caso la chirurgia è in molti casi risolutiva. Naturalmente per stabilire e studiare bene una patologia da reflusso bisognerà innanzitutto fare un'esofago gastro-dodeinoscopia con prelievi bioptici che è importante per definire l'attuale condizione dello stomaco se c'è o non c'è una gastrite, se c'è un'ernia iatale, se c'è o soprattutto associato a un'esofagite da reflusso. Difatti nella patologia da reflusso gastro-esofageo non sempre noi troviamo endoscopicamente delle lesioni esofagee. Spesso l'esofago non presenta ulcere né particolare infiammazione ma i sintomi invece da reflusso possono essere molto importanti e molto fastidiosi dal punto di vista clinico. Quindi non c'è una stretta correlazione tra gravità delle lesioni endoscopiche e gravità della condizione clinica, cioè della sintomatologia clinica. Oltre alla gastroscopia c'è anche lo studio dell'impedenziometria che è un altro esame molto nuovo, molto moderno che va pian piano sostituendo la pH manometria esofagea perché è più completo e più dettagliato che ci studia non solo l'entità dei reflusso in un dato tempo ma ci studia anche a che tipo di reflusso ci troviamo di fronte se è un reflusso misto, bigliare, acido o solo gasoso e acido. Oltre a questi due esami ancora importante può essere per definire anche uno studio motorio dell'esofago soprattutto motorio per disturbi motori associati anche a questi al reflusso gasoso esofageo si può consigliare il paziente di fare un esofago gramma con bario denso e infine radiologicamente c'è uno studio della deglutizione per lo sfintere esofageo superiore per tutti quei disturbi che possono essere associati al reflusso come la disfagia alta, il dolore toracico.